Alfano si vanta di aver mandato via in un mese 90 persone, peccato che l'accordo prevedeva che 90 presunti profughi dovessero essere ricollocati al giorno, quindi una vera e propria fregatura che abbiamo ricevuto dall'Europa e noi l'avevamo dichiarato in tempi non sospetti, e altra fregatura che noi riceveremo sarà la modifica della rotta dei Balcani, perché di fronte all'alzamento delle barriere sul confine tra Austria e Slovenia, voluto appunto dall'Austria, rischiamo che migliaia e migliaia di profughi ci possano entrare attraverso la Slovenia nel nostro confine del Friuli Venezia Giulia. Ieri ho posto la domanda al ministro Pinotti, il ministro Pinotti scarica le responsabilità su Alfano, dice che comunque conta sull'Europa ma non possiamo attendere un altro pacco dopo quello del ricollocamento. L'Italia e il nostro governo si deve svegliare perché rischiamo una vera e propria invasione.